Perché inizia appunto la ricchezza non si misura in termini di denaro, si misura nei termini dei beni che il denaro consente di procurare. Se questa comunità complessivamente le risorse ce le ha, si tratta soltanto di metterle in movimento e di portarle al loro scopo. Piddini, avete capito? No vero? Andare a fanculo! Grazie.